per la tua commozione, hai commosso tutti noi ed è giusto anche che teniamo conto di come ci sentiamo di fronte a queste parole perché queste persone appunto non sono numeri come giustamente dicevi tu, sono donne incarnate con i loro desideri, le loro speranze, i loro figli e la loro vita che è devastata per sempre, io non so quanto verrà ora questa guerra, speriamo che finisca presto, ma ricordiamoci che cosa sono i dopoguerra di guerra, che non sono mica, le guerre non finiscono il giorno in cui si fanno gli armistizio purtroppo e qui non si può fare nemmeno l'armistizio visto che non ci sono due stati in guerra, grazie grazie davvero tanto, noi nell'Arci saremo accanto sempre nelle lotte per la libertà e la liberazione di tutti i popoli così come ci dichiareremo sempre contro l'antisemitismo perché non ci può essere una pace giusta se non ci si rende conto, se non ci si rende conto delle responsabilità degli stati e dei governi ma anche se non ci si rende conto del dolore di tutte e di tutti.